ciao buongiorno oggi sono qui per presentarti daniele è un nostro cliente che ha venduto il suo appartamento con l'immobiliare 2.0 l'appartamento che è durato in vendita appena una settimana viene i commenti lo faccio conoscere stasera siamo con daniele che ha venduto il suo appartamento con noi innanzitutto prima di chiederti come ti sei trovato quanto tempo c'ebbiamo essere inaspettato sinceramente i tempi pensavo fossero molto più lunghi se non ricordo male 7 giorni o più o meno la manetta massimo forse due tra tutto e cioè facendo il comprens si è anche perché poi in realtà hai potuto sfruttare il discorso del video marketing quindi hai cercato con mano la rapidità di credo forse lo può dire più chi ha comprato diciamo sì ma senz'altro se è stato un mezzo importante non so se quello diciamo si deve più saliente diciamo sì che ha stimolato di più l'acquiliente ma certamente anche detto questo come ti sei trovato con la compravendita con l'immobiliare 2.0 penso è stata una buona esperienza quindi credo sia da tenere in considerazione per me è stata fondamentalmente la prima esperienza anche che poi aveva mandato un amico quindi mi sono fidato dell'amico e in effetti ma indirizzato bene diciamo e ti ringrazio ti faccio tanti auguri e per comunque cosa sono a tua disposizione ti ringrazio Massimiliano ciao